Un Natale a chilometri zero è questa la sfida lanciata da Coldiretti Arezzo con Campagna Amica. L'agroalimentare con regali e non gastronomici, pranzi e cenoni è la voce più pesante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno, con una spesa complessiva di 4,3 miliardi di euro, circa il 6% in più dello scorso anno. Il 61% degli italiani per Natale riferisce Coldiretti sceglierà prodotti made in Italy e ben il 30% prodotti locali a chilometri zero. Per il cibo e le bevande, spiega Tullio Marcelli, presidente di Coldiretti Toscana e Arezzo, si registra una positiva tendenza al ritorno al contatto fisico con il produttore, con un vero e proprio boom degli acquisti nelle fattorie e nei mercatini degli agricoltori, dove farà la spesa a quasi un italiano su 5, il 17% secondo l'analisi Coldiretti. Acquistare prodotti a retini significa anche sostenere il lavoro, l'economia e il territorio, ribadisce il presidente Marcelli, con l'agricoltura e l'alimentazione, che possono offrire un grande contributo ad una ripresa a sostenibile duratura, che fa bene all'economia, all'ambiente e alla salute. Non dimentichiamo poi, conclude Mario Rossi, direttore di Coldiretti Arezzo, che i mercati rappresentano un importante strumento di animazione e coesione sociale, ricreando un legame profondo tra consumatore e produttore, tra città e campagna, e in questo caso rafforzato ulteriormente dallo spirito natalizio. Quest'anno gli acquisti per le feste però non verranno fatti solamente tramite canali tradizionali, ma si ricorrerà anche al web. Secondo un'altra elaborazione Coldiretti, un italiano su tre effettuerà online i propri acquisti natalizi. Il web è uno strumento importante, ricorda Coldiretti, anche per sviluppare iniziative di solidarietà, come quelle promosse per sostenere i produttori delle aree colpite dal sisma.